Io sono così, certe volte è spiaggia perduta, altre volte mare in tempesta, certe volte è sola deserta, è silenziosa, altre volte oceano che abbraccia il mondo. Le persone buone sono quelli che amano gli animali, gli animali sono esseri speciali e chi ha avuto la fortuna di vivere una connessione con loro. Lo sa bene, la nobiltà degli animali è un vero insianamento, grazie a loro siamo persone più umili, empatiche, affettose, ci donano il loro amore incondizionatamente, senza chiedere nulla in cambio, facendoci del bene. Tu pensi, pensi troppo, questo è il tuo veleno, è il tuo antidoto, allo stesso tempo, alla fine, in qualche modo, ce la fai sempre, oppure spesso pensi così tanto che finisci per sabotarti con le tue stesse mani. Le persone non ci deludono, siamo noi a sopravvalutarle, loro sono quelli da sempre, eravamo noi che avevamo bisogno di vederle migliori. Senti un po', ho trovato il segreto per la felicità, restare lontani dagli idioti. Guarda che le persone non sono un videogioco che puoi mettere in pausa o in stand-by. Se lo fai, puoi non te lamentare se, quando torni, non le trovi più.